Gli abruzzesi virtuosi ai tempi del coronavirus e nella nostra regione il posto dove si rispettano di più i divieti imposti dal governo per contrastare il contagio da covid-19. Lo dice uno studio commissionato da Panorama che pone l'Abruzzo al primo posto per gente ferma a casa con una percentuale del 61,3. Sempre in Abruzzo ci sono meno lavoratori fuori casa. I meno bravi sono stati finora i pugliesi. In questa regione la metà della popolazione non ha rispettato la regola che impone la permanenza a casa. Lo studio evidenzia come il comportamento delle persone nelle varie regioni italiane non è strettamente legato alle situazioni epidemiologiche, cioè non è stato il numero dei casi positivi a determinare i comportamenti più o meno virtuosi. Infatti l'Abruzzo non è sicuramente tra le regioni con una situazione preoccupante di contagiati. Gli abruzzesi evidentemente sanno bene cosa significa vivere nell'emergenza e l'importanza del rispetto delle regole per uscirne. Un popolo che negli ultimi dieci anni ha vissuto terremoti, alluvioni e nevicate epocali ha dovuto per forza sviluppare la resilienza, ovvero la capacità di assorbire un urto senza rompersi. Oggi l'Abruzzo ricorda i morti del terremoto dell'Aquila del 2009. Oggi l'Abruzzo conta i morti del coronavirus. Oggi l'Abruzzo dimostra che la dignità e il rispetto appartengono a questo popolo forte e gentile. L'Abruzzo è un grande produttore di silenzio, scriveva Giorgio Manganelli, e per gli abruzzesi il silenzio non è solo un vuoto, ma è il modo con cui ci si organizza la presenza. Gli abruzzesi ci sono, ma restano a casa nel rispetto di chi, ancora una volta nella nostra regione, lotta per contrastare un'altra grande emergenza. Oggi è il coronavirus. Ieri il terremoto, una grande nevicata o un'alluvione. Un primato, quello che arriva dallo studio di Panorama, che ci dice che siamo i più virtuosi in Italia nel rimanere a casa durante l'emergenza coronavirus, che però non ci regala nessuna medaglia, ma che sempre di più a pieno titolo ci ricorda che l'Abruzzese è forte e gentile. Sempre.